Esiste un altro oro rosso nella nostra provincia, si tratta della ciliegia, frutto ricco di carotene, sali minerali e vitamina C che protegge la vista e la pelle dal sole. La ciliegia è stata la protagonista nel weekend della fiera di Villanova. Grazie al caldo degli ultimi giorni, il prodotto, secondo i frutticultori, risulta ottimo dal gusto saporito e dalle dimensioni abbondanti. Una buona annata, un po' il tempo subito è stato non troppo favorevole, però adesso il sole ha favorito molto la raccolta e la bontà delle ciliese. La quantità è superiore a quella dell'anno scorso? No, non superiore, ma come qualità siamo a livelli dell'anno scorso. All'inizio siamo partiti un po' male, però stiamo andando bene e se tiene il tempo andrà benissimo. Il prezzo, invariato rispetto all'anno scorso, varia dai 4 ai 5 euro al chilo. Non poco, anche perché le ciliegie vengono ancora raccolte a mano. Lo dobbiamo fare a mano e per raccogliere 10 kg di ciliegie ci vuole un certo tempo. Diciamo che una media può essere calcolata un'ora, ecco 10 kg. Forse adesso con i nuovi metodi, cioè lavorando sui carri di raccolta, forse si può fare anche raccogliere in meno tempo, ecco, però è sempre un tempo lungo, perché poi oltre al tempo di raccolta c'è anche il tempo per metterle nei contenitori e c'è ancora tanto altro lavoro. Possiamo dire che viene raddoppiato il lavoro.